Un tesoro restituito alla città è stato infatti presentato il rinnovato orologio astronomico della Fraternita dei Laici. È la prima volta che siamo stati in grado di ricostruire una colorazione del quadrante mobile con una certezza di aver ritrovato nel fondo di questo quadrante i colori veri come erano nel Cinquecento. L'antico automa è stato sottoposto ad un delicato intervento che lo ha riportato al suo antico splendore. Abbiamo fatto tutta una serie di analisi e di rilievi anche utilizzando il microscopio per trovare le poche tracce dei colori e delle dorature originali che sotto numerose mani di ridipintura e di sporco di nerofumo sono stati individuati in una bellissima azzurrite che colorava il quadrante e nelle dorature a oro che invece doravano le sfere e le linee del calendario lunare. L'orologio presente in Piazza Grande dal 1552 rappresenta uno dei principali simboli della Fraternita. Abbiamo tutti i documenti, le deliberazioni scritte a mano di questo orologio di quando fu deciso dal magistrato di costruire questo orologio. Intere generazioni sono passate davanti a questo orologio, hanno visto le ore, le fasi lunare e altre generazioni che verranno dopo di noi vedranno questo orologio. Un restauro reso possibile grazie all'impegno di Ancos e con Fartigianato Imprese. Ci è piaciuta l'idea del restauro dell'orologio che ridava a questa città la possibilità nella piazza centrale, nella piazza della Giostra del Saracino, al centro di un'architettura che è meravigliosa, far ritornare e dare vita a un orologio che da 500 anni ha segnato la vita degli aretini.